insieme a parenti ed amici gli sposi si accingono a dare vita ad una cerimonia speciale si celebrerà l'amore l'amore che è il sentimento più grande che dio ci ha donato assisteremo con gioia all'unione di questi due cuori che si sono ritrovati per donarsi amore incondizionato sempre matrimonio da favola per veronica cappello e michele martinelli che hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore in un principesco locale di augusta la festa nuziale è stata perfetta grazie anche al servizio offerto ed ovviamente grazie alla bellezza del posto perfettamente valorizzato e rispettato nella sua autenticità la cerimonia è stata celebrata all'aperto su un bel verde e di accogliente manto erboso con vista panoramica sul mare un rito nuziale che ha avuto inizio con un atto d'amore per enzo cappello papà di veronica che è venuto a mancare qualche anno fa in questa magnifica atmosfera è stato celebrato l'amore che pulsa nei cuori di veronica e michele che rappresenta il sentimento più grande che dio ci ha dato ai novelli sposi l'augurio di una lunga vita piena d'amore e di grandi effetto grazie a tutti grazie a tutti